Avete mai fatto le piadine in casa con le farine naturali senza glutine? Queste sono facilissime, con la farina di grano saraceno finissima e con l'olio Evo. Versate le polveri in una ciotola, aggiungete l'acqua e mescolate con un cucchiaio. Unite l'olio Evo e impastate a mano fino ad ottenere un panetto lavorabile e bello elastico. Ricavate circa 8-10 palline, tutte uguali. Istendetele con il mattarello sullo spianatoio infarinata di farina di riso o amido di mais, ricavandone dei cerchi piuttosto sottili, come vedete nel video. Disponete una piadina alla volta sulla piastro o padella antiaderente ben calda, mi raccomando, e cuocete per 3-4 minuti per lato, fino a quando si formano le bolle caratteristiche della piadina. Procedete con la cottura per tutte le piadine, ed eccole qua. Con questa ricetta avrete delle piadine ottime, genuine, fatte in casa, naturalmente prive di glutine. E ora ditemi, come ne farcireste?